Musica E' accetto ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft insieme a Michele0707 nelle Egg Wars signori Ola! Ola! Allora questa mappa io non ci capisco niente e quindi non so dove sono le robe Forse di qua c'è l'oro Ah allora signori credo di aver capito che siamo nelle overpowered C'è abbiamo gli oggetti OP e abbiamo il resto OP Le robe OP Io mi farmo... O mi dici quanto costa una spada? 5 con sharpness 2 di legno Io mi prendo 30 litri di ferro Scusate se a volte tiro su col naso ma sono problemi miei di raffreddore Sono problemi di Ebola Non è vero No! Mi manca due pezzi di ferro me ne puoi dare due? Grazie so poveraccio Per farmi spada in pietra Ma perché in pietra fratello 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 fatti tutti fare... Fratello perché è più forte spada in pietra Ma siamo in 1.8 è vero gli altri sono in 1.9 10 Quindi sono stra OP Signori perché Cubecraft sarebbe un server 1.9 1.10 Ma noi che siamo pro player ci giochiamo in 1.8 Il letto di rosa... Cioè l'uovo dei rosa è già stato distrutto Mamma mia! Non è niente Ci sono alcune partite che ci sono gli hacker con la fly E spaccano tutto No questo me lo tengo Tipo tu non hai usato la fly nel tuo video con le hack Ananasna Cantiamo la canzoncina di Scottex Non facciamo pubblicità Ho una pera No non era proprio così Cavolo Serio? Questa è da tagliare No la lascio Vediamo le azioni che riusciamo a fare Perché magari riusciamo a vincere lo stesso Io sono già morto Aspettami No tu ci sei ancora Sì lo so Ci stavo trollando Ho una penna Perché è l'agga? Ho un ananas Dai Ma l'agga sta sempre Roba Roba Secondo me c'è l'hacker con la fly che è venuto qua Ma va Ciao frate Frate col cavolo Ho una penna E vabbè ci prendo Bra Si vedi scrivole in chat Ban Vuol dire che c'è un hacker in partita Mi sa che è l'ambra addosso un po' Vieni Mickey Andiamo al centro a comandare Anzi nuola Aspetta Sto prendendo di Iamond A nostra base Ma come da Iamond? Li ho attivati io Sono pro Ah hanno attivato il generatore nella nostra base? Io li ho attivati Perché non lo so Eh no cosa mi fai andare al centro a comandare? Potevano ammazzarmi A proposito Sono già morto Non è vero sei là Cavolo mi hai scoperto Aga gaga Guarda come farmi uno schifo Guarda come farmi uno schifo È mio il diamante È mio Aga gaga I'm a gaga Maga Pass me blocks please Maga So che non ho Ah Nell'una Ho preso uno Aspetta A me posso fare Tieni Andre Grazie Io non posso fare F Protection 5 frate Non stiamo scherzando Io non posso fare F Perché non sono in uno punto Cavolo Dopo Vabbè Rob In uno punto cavolo È nuova questa It pass me block Please Due diaz Due diamant Ok Tieni Non ti diamantai Tre Però ne ne è metti due E quindi Due diamant Ma c'è dei dati Vai via Schifoso Te ne hai dati Sì appunto Vai via Ho dati Cavolo Ecco bravo Ecco bravo Alleluia Bardati Passa Qua dentro facciamo schifo Passa Tu hai il piccone? No Io sì Tac 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 Sìì Sìì The diamond Is me Quanti diamanti Ho Tre Uno Vai Cavolo Passa Nooo Quanti ne hai adesso? Due Cavolo Me ne manca Passa l'uno E lo potenzio Bravo Frate Siamo dei camperoni schifosi Non è vero Stiamo solo Stiamo solo farmando Si può potenziare ancora? Sì 25 diamanti Certo Col cavolo che ci arriviamo Se non andiamo al centro C'è un'armatura per terra Io me la rubo Mamma Il ferro qui Mamma il ferro Ah vabbè 34 35 36 37 Vabbè Poco ferro E se vado tipo Dall'oro Quanto oro ci sarà? Tre 7 Cavolo 7 Wow 8 C'era bisogno tipo Di 16 oro Per farsi l'armatura Cioè Sì La spada Armor Cappelli Ma c'è il verde Che sta salendo Che sta salendo da noi C'è un verde Che sta salendo Miki C'è un verde Che sta salendo Perché voleva romperci l'uovo Ma noi siamo qua Ma che succede? Ci sono i drogati che cercano di ristruggerci l'uovo Adesso quando ti accorge che è già rotto Chissà cosa fa Appunto se n'è andato Se n'è andato? Sì L'ho visto scappare via sul ponte Drogato Perché si spacca Comunque siamo in tre Io Te Quel tizio Due animali E un tizio Oh c'è un altro Che è una faccia da panda In partita Che schifo Ma perché Devo per forza Gridare Sono a 21 Ok Che si fanno le robe op Però C'è dai Datemi altri otto di oro Dai Uno Uno d'oro Boom Spara In diamante Ma cosa è in diamante? In ferro Sei povero tu Io adesso me la faccio in diamante Barbone Barbone Io ogni quarto di secondo Ho un diamante Tieni Che schifo Che schifo i poveri To To Che schifo i poveri Ma ce l'ho già l'armatura Vabbè però un'armatura di scorta Me la tengo Come fa Ermac No E' preso un diamante E me le prendo Mille mie robe No Schifoso Cos'è che ha la scuola Ho già presi tre Ah ragazzi Volevo dirvi una cosa brutta Sapete la skyblock Che ci stiamo nerdando Io e Michele Allora adesso non vi posso far vedere la clip Ma a un certo punto Mentre stavo cercando di buttare Della carne di zombie fuori Perché era inutile Ho buttato Cosa hai fatto? Spada Powa Per sbaglio E quindi se Mi vedete con tre spade in diamanti Nell'inventario Perché sto cercando di fare livelli E rifarmele Quindi non preoccupatevi Non sono scemo È solo successa una disgrazia E Michele E Michele ci ha goduto un sacco Quando è successo Esatto Perché si può Nella vita Anch'io non sono molto a posto con la voce Sembro tipo un trans però Ma cosa? Dammi un diamante Vai a morire Ciao frate Ah è un nostro Dicevo Se vuoi farm a diamanti Schifoso Quante Quante è Una spada in diamante? Penna Devo fare dei blocks Due stack vanno bene Andiamo a fare robe A questi 40 diamanti Addirittura Per farmi la Il piccone Con efficienzi 8 Ma dove? Ma quando? Come? Chi? Vai nella roba del villager Se schiacci Vai nei picconi Il massimo è un efficienzi 8 Cioè Oh mio dio Vabbè 40 diamanti Non sono tanti Potenza 3 Io ne ho farmati in tutto Tipo 50 60 Ne ho farmati 25 per upgrade 27 per me Quindi sono volati tutti Guarda questo qua che si fa full ferro Ha schifoso Io sono già full ferro Non per dire Guarda qua quanti dai Ma ti levi Che bollino Leva ti schifoso Che benessere di materiali Adesso addirittura Che benessere Che benessere Lo devi Cioè Non puoi andare al centro Se non sei full ferro Perché non sei nessuno Se no Cos'era? 5 Io Stando Un attimo al centro Ho 15 diamanti 32 pezzi di Di oro Le robe Altre robe C'è uno che si chiama Banana King Ok Allora E metto in ferro Non lo so Cosa in ferro Pantaloni in ferro E stivaletti Esatto Roba in ferro Ma è protezione 5 Tutto Ma uguale Sì esatto Eh OP Cosa vuol dire OP Overpowered E quindi Le robe Sono Overpowered Dovrebbe essere Ma sai che si è stati distrutti L'uovo Dall'inizio della partita Però non si è ammessi tanto male Cioè direi No Non tanto Confronta alcune Eggworks Che ho fatto io Ma io dove sto andando Dove sono Non li voglio sti robi Allora Abbiamo capito male Tutte e due Allora Sti robi Ciao C'è Ciao 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 Penna Mela Penna Io ho 31 diamond Non so se farmi Full Full diamond Guarda che Quanti 31 Non ti fai neanche un pezzo Sì Hai bisogno di Come quanto costa il pezzo 32 ciascuno Cioè Sì esatto 32 ciascuno Spero che sia Il mio amico Non è il mio amico Ok Adesso Sentirai un boom Ok Distruggerai l'uomo Giusto? No Però questo qua È caduto Dalla vita E non è morto Cioè Gli ho dato 3 colpi di spada Con 9.5 Di danno E poi è caduto Sai che il centro È un po' strano qua Ho 51 diamond A parte quello Il centro qua È strano E quindi Quando cadi giù Cioè Subisce un danno Boia Mi faccio anche la spada Da Sì ti conviene 9.5 Anche se mi volevo fare Ma io 64 diamond Però No Non Oh io mi faccio anche L'arco con punch Bravo Quello serve Il fatto uno E le frecce Ho bisogno Non sei stato tu a distruggere Hashtag le frecce No In realtà no Ok Sto arrivando Non dovevi distruggere tu Vabbè 61 Sentirai un boom Perché volevo uccidere Quel tipo Ma No Ok Allora Io ho 64 diamond Tech 4D Tech 4D Abbiamo tech in partita No Che bello Oro Allora Io sto tornando In base Due secondi E mi vedrai Arrivare Sul ponte Stavo cadendo Sai che io ho un piccone Sai che io ti sto venendo incontro E sai che io ho stra paura Di andare sul ponte Ti immagini Con piccone Eficenziotto Faccio così tipo Per salutarti Ti scavo il blocco Sarebbe Sarebbe Il sale più grande Della vita Tipo per dire Ciao Benvenuto Tu Ti immagini Rega Mi dispiace Se stiamo un po' Qui a camperare Però È troppo divertente Farsi overpower Cioè adesso Appena mi faccio Un po' di più Di frecce Guarda Che cos'ho Guarda Cosa Bello Piccone è uno dei più forti E più questo Guarda Me lo ridai Tieni Aspetta Guarda che cosa c'ha Potenza 5 Eh vabbè Io ho punch 1 Che è più Più forte In realtà Sì È più forte punch Nei minigame Isola Tipo È più forte punch Quanta paura di cadere Tu non sai Quanta paura Ho di cadere Io sto punto L'ho fatto 6 volte Tipo Cacca Ma fai il parkour Tipo E cadi nel volto Per sempre Mi sono sistemato L'inventario Bello Bello Anch'io me lo devo sistemare Tipo Povero 5 Primo slot Spada Secondo slot Arco Terzo slot Frecce Ultimo slot Cibo Penultimo slot Che scemo Mi sono portato Tipo Due stack Di oro Il peggio diamond È stato eliminato Il nostro Ah no Era un altro Per fortuna Mi sembrava il nostro amico E dico No È stato eliminato Eh sì Fidati che tra un po' succederà Guarda I ponti indioriti addirittura Cioè Siamo troppo avanti Ci manca Solo che qualcuno mi prende E mi butta giù con punch Oh mio dio Andre ho il piccone power Sì Andre Andre Viene al nostro ponte No Sto farmando diamond Anzi Sì 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 Ti ho visto il nome Guarda 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 Sì che c'è Io sono sotto di te Sì ti ho visto Ciao Guarda 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 il mio piccone Hai efficiency 8 No Aspetta guarda Ma cosa Li hai disintegrati Hai un po' di diamond Da darmi Oh mamma No a non laggarmi di nuovo Server schifoso Cosa Cosa stai facendo Ho bisogno di diamond Raga Ti darei diamond Sì ti ho Rega sapete che io ho un tasto del mouse Oh mamma Ho un tasto del mouse rega Che praticamente È Praticamente Tasto sinistro Ripetuto due volte Quindi ogni volta che Faccio pvp con quel tasto È come se colpisco due volte l'avversario È fighissimo Ed è molto comodo nel pvp Infatti alcune persone Mi hanno già ritenuto hacker Invece no Giuro Non uso hack Tranne nel video di oggi Cioè di domenica Guarda il mio piccone No non farlo Guarda Non farlo Aspetta Non sono dietro di te Aspetta guarda Ok Guarda Ma cosa fai Ma è tipo splag Sai che tipo fai così Splag Ah sì Io ho raccattato L'armatura di ferro Da per terra Vabbè I barboni Che schifo I poveri Ma cosa Poveri poveri Che brutta cosa Da dire Che schifo Save the children Oh questa no Questa è pesa man Non si dica Ma perché Guarda me Guarda me zio Che schifo I poveri Che schifo Grazie Perché tieni sempre Prenduto così Cosa fai Cosa devi fare Vabbè Io prendo i diamond Tanti diamond Che vedelo Tanti diamond Le gaple Oh potrei farmi un po' di gaple Aspetta Mi faccio Chiamo a gaple Però Ma giusto Poche poche Quanto Quante E qualcosa No 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 Tranquillo Qua sono solo dieci diamanti Vabbè Ok Che schifo I poveri Ma cosa Non per dire Ma ho uno stack E tre di gaple Gaple op No gaple Normale Le gaple op Costano tipo Uno stack Di diamanti No dieci Dieci What E tu quante gaple op Dieci diamanti E tu quante gaple op Ah Hai una mela O più Per salvare Cosa Vabbè Io posso buttarti giù Con l'arco punch Ed è più facile Tu con potenza 5 Invece dovresti stare lì Ore e ore Ad attaccarlo Ma dipende da chi ho contro Perché se uno senza armatura L'ho sciotto subito Instant No perché se la mela op No Vabbè se la mela op Se non ce l'ha Col cavolo Da chi vuoi andare Da chi vuoi andare Zio Mickey Eh non posso andare da nessuno Perché non abbiamo Perché non abbiamo l'arco Oh diamond Scemo Io non ho visto un full diamond Shiftati Perché dov'è È andato in base adesso Oh guarda che io lo posso buttare giù con pancia Te lo ricordi Hanno fatto l'arco Hanno fatto il ponte schifoso Cavolo Cioè non schifoso Ma che Ma che Intelligente E allora lo devi buttare per forza tu giù Scusate ragazzi Se tremo così Ma È normale Di solito in inverno Gioco così Gioco così Sì appunto A Milano fa freddo Sai com'è Ah sì Ragazzi Se volete incontrarmi Ma non vi dirò mai chi sono Mi trovate Forse anche Michele Al Milan Games Week Eh Quindi cercate di essere Non lo so Tu ci sei Mickey? Non so se vado Non lo so Ah sì Ci incontriamo Mamma mia Non abbiamo lo stand Che sia Che sia chiaro Non abbiamo lo stand Siamo da turisti Sì siamo da turisti Sì esatto Troppo piccoli Un po' da barboni Cioè abbiamo troppo pochi youtube Un po' da barboni Ragazzi come ho il link Di tre video fa Mi pare Ho lasciato il canale di Michele Quindi se volete visitatelo Sì Così mi fate visual E mi fate pure iscritti Il primo video di Michele Ha raggiunto 16 visual Questo me l'ha dato Una settimana fa No Adesso voglio vedere Continua 16 zio Visual Visual Touch my visual Questa no però Pesa Dammi diamond Pochi diamond Non è vero Oh 30 Spara da qua sotto C'è qualcuno qua sotto Attento Vabbè vedo qualcuno Che lancia freccia What Mamma mia Che pelo Chi è Cosa stai facendo Eccolo È un full diamond Mickey un full diamond Mi freccia Aiuto Sta arrivando Stai arrivando Un attimo Come ti bruciano le orecchie Cosa vuol dire Perché le cuffie Fanno caldo Mentre ho le mani gelate Invece a me mi coprono tutto l'orecchio Quindi non sento un cavolo Poi quando me le tolgo Sento tipo l'ebola Che mi viene Adosso Dai comunque Mickey Vieni Sto facendo un ponte Per arrivare Da non mi ricordo Chi Ok bene Ehm Allora Dai grey Eh Shalto intelligente Che c'era il full diamond Molto Oh no Si Rock a fan Again A grass Far Grass Far Cosa vuol dire Però io ho troppi blocchi Togliti da qua davanti Mickey Rega Io le Egg Wars Le lascio Complete Prive di tagli Se non ce n'è bisogno Quindi Cioè di solito Le lascio senza Questa sarebbe La mia prima Però Potrei lasciarla benissimo Senza tagli Vieni un attimo indietro Perché Ciao Dai A me Cupecuredu Aspetta Ma che cos'è sto lag ogni tanto È il server vero Ehm Mi mancano i blocchi Mickey Devo andare in base A farne altri Ma perché Che schifo i poveri Vieni qua Vieni qua Quanti ne hai? Ah vabbè Non te lo dico Non sta che basta Dobbiamo farci la scaletta Oh mio dio Cosa? Cosa è successo? Il mio Il cone è così O più che non spacca i blocchi Cioè Cioè? Sai quando Viene il glitch Che non puoi Perché c'è un blocco invisibile? Sì Eh No serio Può adesso No Mickey Mickey Tu passi vero? Ho paura Non farlo più Non farlo più No Oh scusa Non farlo più Wow Cadevi solo sul manico della sedia Cioè non è che cadevi La vita Però c'è la morte anche Allora Al centro non c'è nessuno Vieni un attimo Vieni un attimo al centro Perché Sto facendo Ci sono robe Da fare Sto facendo Sto facendo Comunque il nostro amico è morto Chi? Com'è? Chi l'ha ucciso? Nooo Il nostro amico Non lo so Porco cane Ah È morto da sole Come? È morto da solo Come ha fatto? Dimmi solo Non lo so C'è scritto Federico Died Basta Ah O c'è qualcuno Che trolla Un admin Perché di solito Quando è in vanish Non vede Chi è stato Da chi è stato ucciso Oppure è sloggato Che è più possibile No Died Sarebbe Logged out Invece proprio Died Basta Si è suicidato Bene E non aveva più voglia Di giocare Abbiamo un pazzo Amici Tu sei nell'isola? No Quasi Comunque Vai all'isola E fammi il picconazzo E anche Cioè Quello Quello non può Quello normale E mi fai un po' di blocchi? Grazie Ok Sto andando Grazie Miki Sei un amore Ponte Sto passando Sei un amore Miki Tu hai lasciato Dei diamond qua Grazie Dove? Allora Ti devo fare il piccone E non prova Questa è la parte Rush Dove attacchiamo Distruggiamo Circa Forse Allora Questi sono i grey Dovrebbero essere Stavo per cadere No 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 C'è uno qua No dai C'è uno C'è un verde qua Muoio In base Devo mangiare Lagga e pollo p Mangiala Mangiala zio Eh oh Laggo pure Ma che cavolo è Meggio Miki sto ponte Non è servito a niente Ce n'era già uno Dei grey Dai Adesso Che capisco qualcosa Frate ti Ti uccido Completamente Sto arrivando eh Vengo ad aiutarti Noi siamo I blu Ok Dovrebbero essere quelli Muoviti Non è che sto morendo Però sto qua Mi sta facendo perdere Un batto di tempo Nel centro Nel centro puoi dire E vabbè Questo mangia Gheppolo Pià Maratona Tipo Io ho l'arcopance Ricordati che io ho l'arcopance Ci stiamo picchiando Da sei ore Lol Sto arrivando Oh No la frizzata Che frizzata Stavo per Essere tipo Buttato giù Malissimo Che frizzata Quanto Cioè Sto server È Cubecraft Sì Ci giocano un sacco di youtuber famosi Sì Ma frizza un botto Ma è un full diamond No Ecco E sta Sto picchiando da sei ore Con l'arco Con non l'arco Vai 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 Fallo scappare di là Che io sono No Sta facendo il pillar 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 Ha buttato Tranquillo Dai Sei grande Sei un grande Sei un grande La potenza dell'arcopance Signori La potenza dell'arcopance Eh sì Questa è veramente La potenza dell'arcopance Mickey vieni Ho trovato un modo Per andare da grey Ho tre gheppoli Aspetta Mickey Devo fare il picconazzo Aspetta Io mi devo fare la Ah no Te l'ho io Ce l'ho Do io Ma non quello Overpowered Ok grande Sì sì Efficiency 2 Non è niente di che Mi piglio un po' di diamond qua Così almeno mi faccio un po' d'armatura Almeno i pantaloncini in diamond Eh io mi sono fatto la chestplate Per forza Eh io te l'ho già la chestplate Ok Allora Ok Butto sta roba qua Io vedo quanti ci sono Diamond ci sono qua Oh io ho ancora la spada Affilatezza 2 però Cavolo Potevo usarli per farmi affilatezza 5 Cavolo Ok vai tu Io ne ho 18 di diamond No vabbè Mickey rasciamo se ne importa rasciamo Mickey Aspetta quant'è la melopi? Eh 10 La melopi 10 diamond Diamond Allora mi faccio la melopi Allora mi servono dei blocchi Blocchi boom Ma io ho un botto d'oro Perfetto Ma io adesso non Tieni Ma allora io non mangio più carne Cioè mangio Mangio mele d'oro Ho stack e stack È vero Vabbè Viva Viva i poveri Viva i poveri Come? Perché? Cosa vuol dire Viva i poveri? Oddio Oh Andre Si C'è la ender pearl Quanto? Farma diamanti Eh Mi scelta? Eh uno stack Farma diamanti No 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 Mickey C'è già il ponte fidati Possiamo andare Shhh Shhh Farma diamanti Io vado Ciao Muori ciao No dai 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 Mickey Andiamo 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 Ce la possiamo fare Seguimi Seguimi Aspetta mi faccio un attimo più di armatura Ok adesso sono bel che protetto Vieni Vieni Aspetta mi faccio un'altra Gapple Se ne è pronta ad uccidere tutti Il bello di mangiare mele d'oro It's money 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 E' bellissimo mangiare mele d'oro a colazione Pranzo e cena Allora Allora ho quattro Qua 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 Eeeh hack Belli le hack eh Perché cosa ha fatto? Si è girato instant appena l'ho colpito da dietro E va bene Questo è l'elt tag Non è l'elt tag Non è l'elt tag È killaura zio È diverso No perché si è girato appena lo stavo per colpire da dietro Si chiama killaura Guarda lì l'elezzo No Killaura è che quando Tipo ti colpisce Mentre non ti Oh ma sono solo noi due I grigi non c'è nessuno No Mori Come non c'è nessuno Oltre noi Schiacci tab Schiacci tab Ah no hai ragione scusa Sbagliato Aspetta mi sono bevuto una Gapple OP E sto Anche io ne ho mangiato una Massacrando questo qua Dov'è? Ah è qua sopra Eh sta Sta fast buildando Come lo schifo Aia Quanto fa male questo arco Io sapessi dov'è e lo ammazzerei Cioè Ah ecco Seguimi Arrivo arrivo No sono sul ponte Attenti Attento Piuttosto Muori male Schifoso Maledetto Ne sta arrivando un altro da qua sotto Anzi no è sotto sotto Cavolo Non possiamo fare niente Da sotto sotto Aspetta però che tolgo tutte ste particelle che fanno laggare madana LOL Oh Cos'è che è scritto Noob Hux Aspetta Ma chi? C'è uno qua sotto eh Aspetta Global Global V V Ma come fanno a scrivere in global? Non ho capito Ehm Boom Hanno quittato No ci sono Ma che cazzo No Quello è un grigio Sta arrivando un grigio da dietro Attento Seguimi Dove sei? No C'è un grigio dietro di me Vieni Vieni dove eravamo prima L'ho visto l'ho visto l'ho visto Questa punch Questa punch Questa punch Ok qualcuno mi ha scritto su 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 Cures Ok Lascia stare Cures Aiutami ad ammazzarlo Anche a me Sarà stato Ale E te lo sto facendo Sarà stato Cures Probabilmente Occhiuristi hanno Ale Esatto Probabilmente Ale Si è scritto anche da No ci stai chiamando Puoi crepare male Che pizza Scrivigli che non possiamo Perché siamo rec Scrivigli che non possiamo Non posso in questo momento Troppo concentrato Ok Metto un attimo qui E Start Start L'altro schermo Cures Dietro 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 Mori No ha schifo Ma questa cacca di digitale Sei morto? No 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 Fortuna che avevo Non so cosa Resistenza Avevo resistenza Perché ho mangiato la melopì Che fortuna Sei tu il grigio? Ah no sei Michele Fortuna che avevo resistenza Nella melopì Tu non sai quanto sarei morto Se no Che pizza digitale Intanto ci chiama Che lol Ma sai che dobbiamo Porco No 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 Mickey 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 No 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 Chi è che mi Chi è che mi Bosspammava? Schifosi No Michi Abbiamo perso Non abbiamo perso Credici Nel cuore delle carte Credici Basta Credici Basta chiamarci Mori Mori Aiuto Mickey Tu sei morto Sto picchiando da sei ore Creepy Creepy Sto spaccando Oh no Pochi cuori Gapple P Ok Mi ha salvato la Gapple Questo le ho spaccato Tutta l'armatura Scusate ragazzi Ho avuto un po' Di problemi col mouse Vieni qua Eh basta Sei morto zio Ok Peccato che hanno ancora l'uovo Mi stanno chiudendo Mi stanno chiudendo Mickey Dove 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 Che ti dico Sei Eh sono uscito Sono uscito Attento che questo è un knockback Mori Guarda come lo colpisco Basta tappetino Schifoso Tappetino nel mouse Infame Per te sono il cane Il cane per te Sono il cane Mori Ha schifoso Non è che hai visto Che sei più full diamond Di noi Ci puoi fare il sedere Mori Oh attento Aspetta Mi devo mangiare una mela Attento Aspetta Aspetta Che questo qua È molto Boss Spam Quindi puoi crepare Tanto non mi fa niente Oh ma Mi hanno spaccato l'armatura In ferro Attento Che è qua Che sta Ma perché Basta A me non ancora Ma è quasi Basta Digitale Eh se ci lasciassi Dopo gli scriviamo Il titolo del video sarà Digitale Ci rompe le scatole Nelle egg wars Ok Ho chiuso questo qua Oh Mickey Io vado a rompergli L'uovo eh Oh mio dio no Vai 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 Io mi sono Un attimo Gheppolato OP Opposamente Dove cavolo è la loro isola L'ho vista L'ho vista Devo solo salire Non so che Se con i blocchi Che ho Ce la posso fare Spera E se n'è andato Anche lui Se n'è andato È stato uno sconto Abbastanza Strano Lezzo 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 è strano Esatto Io sto andando da loro eh Basta scriverci Ale Ci stai violentando Abbastanza Allora L'isola dei grigi Si arriva Come Se mi butto da qui Mi faccio male Andre Andre Si Che c'è È una cavolata Porto male Spavento Sei caduto No Quasi Mori Ah bello C'è è ritornato il tizio di prima Con l'armatura in chain E la spada in diamond Spavento Dai Lo puoi killare Lo puoi killare Si ma Mi ha spaventato E mi ha buttato giù Oh Vieni Miki Helpami Eh Che cavolo Helpami cosa Sto combattendo ancora Sto full diamond Ho erotto Eh sono in due Cavolo Eh sono morto Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Miki Forza Gheppola Gheppola Non ce la faccio No 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 Sto arrivando Sto arrivando No Sono morto Provaci 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 No Mori Schifoso Guardalo Anche il lezzo No Mori Morirò con degnità Nessuno Avrò Il Mio Corpo Infatti Amorice Schifoso Schifosi 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 Hai me bui Spammer No Nessuno Mi avrà Cioè ti insulti da solo Visto che hai 600 melo mele Mangia Cioè No no Non le oppi È vero Posso usare il tastino Di riserva No No Mangia Mangia No 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 Vivo i boss Spammer Vivo i boss Spammer No No Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Ma comunque ragazzi Per questo video Io credo sia tutto E noi ci vediamo al prossimo Vi ricordo che le egg wars Le lascerò intere Quindi questo video Sarà di circa 40 minuti Bella